Avvocato, a luglio si tornerà in aula? Perché? Allora, innanzitutto non è detto che si torni a luglio. Il problema è rappresentato dal fatto che non è stata fatta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al sottoscritto e conseguenzialmente il Pubblico Ministero ha richiesto la restituzione degli atti che il giudice ha disposto e conseguenzialmente attualmente è stata fatta la notifica, proprio se non erro lo stesso giorno, e quindi successivamente al decorso di questo termine, salvo istanze che non penso che presenteremo, verrà rifissata nuovamente l'udienza preliminare che deve essere fissata negli dieci giorni successivi allo scadere del termine, che potrebbe essere o a fine luglio oppure ai primi di settembre. La sua assistita è sempre in struttura? Come sta? Allora sì, è sempre in struttura e obiettivamente, insomma, adesso viene seguita, è curata e sicuramente si è ripresa rispetto alla situazione soprattutto originaria, ma anche quella successiva in cui non assumeva i farmaci che avrebbe dovuto assumere. Questa donna per se stessa che futuro immagina? È molto complicato, molto complicato perché è chiaro che indubbiamente l'esigenza attuale sarebbe quella di poter tornare in Germania. Per quanto oggi non sia in regime di detenzione e anche la misura di sicurezza che è stata applicata non preveda la detenzione, sicuramente oggi e quindi tecnicamente e teoricamente sarebbe anche libera perché non c'è una misura detentiva, però lei sta rispettando tutte le prescrizioni che sono state disposte.